Lupo, ci fai un'intervista? Questo lo prendo come un sì, ma non è caldo? No, perché lo fai? Che personaggio sei? Vabbè, ho capito, un lupo, ma che lupo è? Ho capito? È un lupo che non parla, è un lupo, basta. Avete mangiato la lingua? No, gli animali non parlano, lui neanche. Finché un morde, non fa nulla. Ah, no, 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 no. Ah, no, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti.